Mi è piaciuto dare questa attenzione ad un territorio pieno di cose molto interessanti. Bagno di folla al Parco Commerciale Grande Sud per l'appuntamento di Arte e Sapori. La Kermess che ha luogo fino al 26 novembre e che ha come obiettivo quello di riscoprire i prodotti e le eccellenze del territorio. Un dinamico show cooking con la chef stellata Rosanna Marziale, ambasciatrice nel mondo della mozzarella di bufala DOP, prodotto protagonista di questo appuntamento dell'iniziativa. Preparati live per il numeroso pubblico di Piazza Giambattista Basile, i paccheri ai tre pomodori con il latte di mozzarella. Mi è piaciuto dare questa attenzione ad un territorio pieno di cose molto interessanti, oggi sono contentissima di essere qui e ad avere questo pubblico che è interessato a sapere tutto sulla mozzarella di bufala Campana DOP, ma soprattutto come la si cucina, perché sappiamo quanto è buona mangiata così anche a Morsi, ma non sappiamo come possiamo cucinarla. Con la novità dello show cooking c'è proprio un'interlocuzione tra la chef e i vari visitatori. Preziosa per la realizzazione dell'evento, la rete tra le realtà del territorio. Un ulteriore anno che l'associazione Alca ha il piacere di partecipare in collaborazione con il centro commerciale, questo weekend abbiamo fatto questa kermess con il caseificio principe di Michele Buonanno, infatti la chef Rosanna Marziale utilizzerà i suoi prodotti per fare dei piatti. La kermess continuerà per altre due settimane con altri appuntamenti. Il prossimo appuntamento è una grandissima eccellenza del territorio, il Capicollo, il quale sta facendo un iter molto molto importante per essere riconosciuto a livello internazionale. Il prossimo fine settimana sarà all'interno della galleria del centro commerciale Grande Sud con un grande fornitore sempre locale. Grazie mille e Grazie a tutti.